Esempio, un giovane soldato deve andare in Russia in guerra. Ritorna all'età di 23 anni con traumi gravi. Vive normalmente, diciamo. Ha un'erpes, un'infezione da erpes appunto sul labbro, ha l'influenza due volte. Adesso nel sistema si sono annidati i virus dell'influenza. Lo stesso vale per gli herpes, herpes virale appunto, ma ha perso il meccanismo di disattivare questi virus. Incontro una donna, lei diventa gravita, ha un figlio, hanno un figlio e questa incapacità di disattivare appunto i geni di questi agenti patogeni non viene trasmesso appunto al figlio. E poco dopo la nascita appunto il figlio ha già febbre, i meccanismi di difesa non funzionano, non funzionano più. Il bambino appunto ha i parassiti, borigliosi, morbo di Lyme. E quando questo bambino raggiunge l'età di 25 e ha a sua volta dei figli ecco il primo figlio è autistico oppure iperattivo oppure ha delle allergie alimentari massicce oppure incapacità di apprendere e questo è il mondo odierno, il mondo di oggi. Un po' di statistica Una statistica americana questa Si è esaminato negli ultimi vent'anni appunto le persone di che cosa muoiono quali sono le ragioni della morte appunto Ecco il tumore come causa di morte è sceso leggermente Anche le malattie cardiovascolari sono leggermente calate Ecco morte per patologie neurologiche è aumentato del 650% 650% la degenerazione cerebrale Morbo di Parkinson Sclerosi multipla Morbo di Alzheimer Eccetera 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 E la vera causa di questo la troviamo nell'epigenetica Dopo parlerò di mio padre anche Suo padre Il padre di mio padre appunto era nella Prima guerra mondiale Ha fatto la prima guerra mondiale Molto traumatizzato Danno epigenetico Mio padre è stato in guerra Seconda guerra mondiale Traumi gravissimi Danno epigenetico Al quadrato Sì al quadrato E poi ci sono io La mia generazione E io ovviamente questi danni li porto in me Li reco in me E il danno principale nella mia generazione Non è dovuto a guerre Ma a due fattori E cioè la contaminazione e l'inquinamento ambientale E l'elettrosmog Cioè la contaminazione da onde radio Con cui appunto Ad esempio quelli dei telefoni cellulari Entrambi creano enormi danni epigenetici Per cui i miei figli Avranno il danno di mio nonno Che viene moltiplicato Potenziato appunto Da quello di mio padre E ulteriormente potenziato appunto Dal danno che A livello epigenetico Che io ho accumulato Stephanie Senef è un nome molto importante Negli Stati Uniti è considerata La principale ricercatrice appunto In questo momento Non in questo campo solo Insomma A livello scientifico in generale Stephanie Senef Opera nel settore delle scienze Le scienze di computer E lei ha fatto questi conti E cioè nel 2025 E cioè tra dieci anni Tra soli dieci anni Un bambino su due Avrà la diagnosi di autismo E cioè i numeri di Bambini autistici A un men Cioè raddoppiano ogni cinque anni E questo Il rapporto tra l'altro Maschi femmine Dell'autismo Oggi è Quattordici a uno Cioè questo appunto Convertendo queste cifre appunto Questo significa che Tra dieci anni Uno solo su venti ragazzi Sarà normale Queste cifre sono note A tutti i governi E fino ad oggi Ogni governo occidentale Appunto rifiuta Di intervenire A questo livello Beh perché sono qui Non è che sia Non è un intervento Su medicina ambientale Ma noi abbiamo visto Che con il lavoro Delle costellazioni Siamo in grado appunto Di fermare Le conseguenze epigenetiche Che abbiamo visto Fino adesso E cioè Vi ricordate Dai nonni Genitori Fino alla nostra generazione Noi parliamo Di trasmissione verticale Quindi Trasmissione verticale Appunto Dei danni epigenetici Viene Completamente fermata E la cosa sorprendente Che i bambini E i giovani Riacquisiscono La capacità Appunto Di gestire I fattori Di impatto ambientale E anche a questo riguardo Voglio darvi un esempio Un ragazzino Appunto Di cinque anni Che io Ho in cura Non il mio studio Devo dire È Fra la Microsoft E la Boeing E gran parte Dei miei pazienti Appunto Sono persone Che lavorano In Microsoft E che lavorano In Boeing Alla Boeing E per questa Ragione Appunto Ha anche Molte informazioni Neil È un ragazzino Che ho detto Autismo Grave Che aveva I danni tipici Appunto Che sono Tipicamente Appunto Manifestati Da bambini Autistici Contaminazione Da metalli Pesanti Contaminazione D'alluminio Contaminazione Appunto Già nel Grebo materno Attraverso Tramite sostanze Appunto Già Trasmesse Dalla stessa Madre Danni da vaccinazione E io ho lavorato Con questo 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 ragazzo Appunto Per un anno Insomma Che è migliorato Notevolmente Ma ha raggiunto Appunto Questo livello Costante Di Miglioramento Ecco Prima Un anno prima Non aveva Nessun contatto D'occhio Con i genitori Non era In grado Di giocare E l'unica Cosa Che riusciva A fare È sedere Nella sua Camera Appunto Da solo Ogni stimolo Era di troppo Per lui E dopo Un anno Appunto Aveva un buon Contatto Con la madre Ecco Viene Appunto Nello studio Mi abbraccia Bacia 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 la madre Ma non parla Era 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 Muto E i genitori Sapevano Appunto Che io Faccio anche Questo lavoro Di costellazione E ho sviluppato Appunto Un tipo Di lavoro Che è molto Pratico Anche per il mio Studio Lavoro Con un Genogramma Appunto In cui Sono visibili Tutti I parenti Appunto Tutti I genitori E forse Alla fine Posso farvelo Vedere Brevemente Forse Abbiamo Il tempo E Un Lavoro Semplificato Una versione Semplificata Delle Costellazioni E posso Raggiungere Molto Con questo Lavoro Ma Non Tutto Non Tutto Quello Che facciamo Nelle Costellazioni Appunto Quindi Posso Fare Molto Ordine Diciamo Così Allora Per questo Trattamento È venuto Il padre Da solo Diciamo Per lavorare Con la sua Parte Con la sua Famiglia Di origine Abbiamo Risolto Qualcosa A livello Dei suoi Genitori Dei suoi Nonni Lui è un Immigrato Dall'India In India Nella sua Famiglia Ci sono Stati Parecchi Abusi Operati Sulle Donne E avevamo Risolto Questa Questa Cosa Durante Il Lavoro Appunto 15 Minuti Solo Quello Che io Non Sapevo La madre Appunto Del bambino Era In sala D'attesa Con il bambino Dopo 15 Minuti Appunto Si apre La porta Del mio Studio Entra La madre Appunto In un Mare Di lacrime Dietro Di corsa Il bambino E il bambino Dice Ecco Cosa Dice Good morning Dr. Klinghart Bambino Che non Ha mai Proferito Verbo Prima E Questo Mi ha Fatto Vedere Appunto Che c'è Speranza Per il futuro Dell'umanità Is